Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza coronavirus, tra poco andremo a vedere i dati aggiornati del bollettino regionale diramato poche ore fa. Nel frattempo l'Abruzzo resta zona arancione in compagnia di tante altre regioni italiane. Il ministro della salute Roberto Speranza sulla base dei dati analizzati dalla cabina di regia che si riunisce come sempre il venerdì. A breve firmerà però altre ordinanze che avranno vigore dal 3 maggio. In area rossa la regione Valle d'Aosta, in arancione la Basilicata, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Numeri positivi per quanto riguarda invece la nostra regione che continua a vedere una discesa dei ricoveri, anche se purtroppo però proseguono i decessi. Sono sei quelli delle ultime ore. Noi adesso andiamo a vedere proprio il bollettino regionale nel prossimo servizio. C'è poi un approfondimento sui due comuni che restano zona rossa per decisione ieri della cabina di regia regionale sulla città di Pescara, che dopo quasi 40 giorni di restrizioni è la città assieme a tutta la provincia con la migliore incidenza per quanto riguarda i contagi Covid. Vediamo i servizi, tra cui quello del collega Giuseppe Dintino. Continua la discesa dei ricoveri Covid in Abruzzo, che passano dai 423 di ieri ai 412 di oggi. Nel dettaglio 374 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica Covid e 36, meno 3, con due nuovi ricoveri, in terapia intensiva. Un numero questo più che dimezzato rispetto al picco di qualche settimana fa. Altre 7.973 persone, meno 157, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sta scendendo anche la pressione ospedaliera, sono sempre di meno le persone ricoverate. In alcuni nosocomi si stanno tornando, o almeno si comincia a programmare il ritorno alla normalità di alcuni reparti che erano stati occupati, in gergo tecnico, sporcati dalle malattie infettive. Quindi se questo trend va avanti, diciamo che già dalla prossima settimana avremo alcune ulteriori riaperture di attività mediche ordinarie e un ritorno verso la normalità anche sotto il profilo sanitario. Proseguono però i decessi a causa delle infezioni di coronavirus. Nelle ultime ore le morti sono 6 ed il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 2.403. Sul fronte dei nuovi positivi sono 151. Emersi dalle analisi di 4.032 tamponi molecolari è risultato così positivo il 3,75% dei campioni. I nuovi positivi hanno età compresa fra i 4 mesi e i 98 anni. Gli attualmente positivi scendono a quota 8.383, meno 168 rispetto a ieri. I guariti aumentano e sono 60.432, più 313. I maggiori contagi si registrano nella provincia di Chieti, poi l'Aquila e Teramo, numeri molto più bassi nel Pescarese. Con un RT che è sceso allo 0,78 e gli ospedali che continuano lentamente a svuotarsi, seppur è vero che in due persone di Chieti è stata individuata una rarissima variante egiziana, questa al momento non desta maggiore preoccupazione rispetto agli altri ceppi del virus. Ieri intanto si è riunita l'unità di crisi regionale che ha ridisegnato la mappa dei comuni con massime restrizioni. A partire da oggi sono solo due comuni in zona rossa, entrambi in provincia dell'Aquila, ovvero San Pio delle Camere e Barisciano. Tira un sospiro di sollievo Pescara. Il capoluogo adriatico settimane fa era straziato dai contagi e da qui che la terribile variante inglese si diffuse in tutta Italia. Ad oggi però quella di Pescara è la miglior provincia della penisola per incidenza del virus. I vaccini sono la chiave di svolta, dice il sindaco, ma la differenza l'hanno fatta anche i 37 lunghi giorni in zona rossa. Abbiamo dei numeri incredibili che ci permettono di guardare al futuro sicuramente con maggiore tranquillità senza mai abbassare la guardia perché le precauzioni non sono mai troppe con questo virus che è subdolo e pericoloso. Certo è che oggi con la campagna vaccinale funziona bene tutto il percorso per quanto riguarda la lotta al coronavirus. perché noi abbiamo questo centro del palafiere che ora viene portato ad esempio in Italia con 24 linee vaccinali dove ci sono 160 persone ogni giorno che operano spesso in maniera volontaria. Quella zona rossa, anche la chiusura delle scuole, in qualche modo questi due elementi hanno attenuato il percorso della variante inglese e quindi in meno di due mesi siamo arrivati ad essere la città meno contagiata d'Italia. Voltiamo pagina, ora la cronaca è costato la vita ad un autotrasportatore di 52 anni originario di Bari. L'incidente che si è verificato lo vedete sull'autostrada A25 Pescara-Roma nel territorio di Cepagatti. Il tamponamento infatti è avvenuto in tarda mattinata tra Villanova e Chieti in direzione Roma. Secondo una prima ricostruzione il camionista si trovava a terra nel punto di impatto quando è sopraggiunto un altro mezzo pesante che ha tamponato il suo tir. L'uomo sarebbe stato investito poi dal mezzo tamponato. Alcuni automobilisti in transito hanno subito lanciato l'allarme ma non c'è stato nulla da fare. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha messo in sicurezza la zona e con l'ausilio dell'autogru ha provveduto alla rimozione dei mezzi per liberare l'autostrada rimasta bloccata per ore. Proseguiamo adesso con la pagina sindacale. L'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale ha incontrato l'amministrazione comunale di Penne per studiare le mosse tese a scongiurare il taglio di 320 posti di lavoro alla Brioni. Intanto domani in occasione della festa dei lavoratori le sigle sindacali saranno davanti lo stabilimento di Penne della Brioni a sostegno delle maestranze. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Dopo aver preso parte alla presentazione del piano industriale 2021-2025 di Brioni presso la sede del Mise a Roma l'assessore regionale con delega al lavoro Pietro Quaresimale ha incontrato a Penne alcuni componenti della giunta Semproni. Tema principale scongiurare in tutti i modi l'esubero di 320 lavoratori annunciati dalla stessa azienda guidata dal gruppo Caring. Ricordiamo che i tagli riguarderanno solamente i tre stabilimenti dell'area vestina cioè quelli di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona. Durante il confronto l'assessore Quaresimale ha ribadito gli stessi concetti espressi dopo i tavoli ministeriali ovvero la forte volontà della regione Abruzzo di evitare che questa importante realtà del Made in Italy lasci l'area vestina già duramente colpita dalla crisi e dallo spopolamento. Abbiamo affrontato la vicenda di Brioni che per l'amministrazione comunale rappresenta una priorità. Ha dichiarato l'assessore, come regione stiamo lavorando in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare i tagli di posti di lavoro. Siamo fiduciosi. A breve incontreremo anche l'amministratore delegato di Brioni con il quale concerteremo iniziative per chiudere la vertenza. Oltre alla vicenda Brioni sono stati trattati argomenti come politiche sociali e formazione oltre al tema della valorizzazione dell'artigianato artistico della città. Il sindaco Mario Semproni ha proposto di attivare attraverso la programmazione europea corsi professionali per formare giovani artigiani da impiegare nei settori della razzeria e nella realizzazione di pavimenti con la tecnica del coccio pesto. Tornando alla vicenda a Brioni, domani in occasione del primo maggio CGL Cisle e Will Abruzzo hanno scelto proprio penne come luogo simbolico per celebrare la festa del lavoro. I segretari Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo saranno davanti allo stabilimento Brioni in via Fonticoli per un presidio per il lavoro e contro le crisi industriali. La scelta della Brioni di penne, dicono i tre segretari, non è casuale. In ordine temporale è l'ultima grande crisi di una lunga serie che si sono aperte sul nostro territorio e il numero di esuberi annunciato, ben 320, è davvero pesante. Saremo al fianco dei lavoratori per ribadire che l'Abruzzo si cura con il lavoro allineando così questa giornata a quella nazionale che avrà per slogan l'Italia si cura con il lavoro. Sit-in di protesta dei sindacati della Polizia Penitenziaria questa mattina avvasto nella zona antistante la casa circondariale. La manifestazione ha avuto lo scopo di stigmatizzare il problema della carenza d'organico del corpo della Polizia Penitenziaria l'impossibilità di assolvere appieno ai propri compiti aumentando il rischio lavorativo e abbassando i livelli minimi di sicurezza. In particolare nel carcere di Vasto, fanno sapere i sindacati, la carenza d'organico supera le 25 unità. Una parte del personale operativo nei prossimi mesi andrà in quescenza. Alcuni poliziotti sono attualmente fuori servizio dopo aver subito diverse aggressioni dai ristretti. La maggior parte degli agenti ha più di 50 anni, continuano le sigle sindacali, non fruiscono di regolare il giorno di riposo settimanale e hanno accumulato quasi 10.000 ore di straordinario. Problematiche che pesano ancora di più in piena pandemia. I sindacati chiedono all'amministrazione penitenziaria centrale di provvedere al più presto ad un congruo piano di assunzioni anche perché in Abruzzo ci sono anche altri istituti nella medesima condizione organizzativa, come ad esempio quello di Sulmona. Proseguiamo ora con il nostro telegiornale e torniamo a Pescara. I consiglieri comunali Pignoli e Fiorilli hanno presentato una petizione che verrà inoltrata sia al Comune che al Prefetto in cui si chiede un maggiore controllo con le telecamere a seguito di alcuni recenti fatti di cronaca relativi a spaccate in esercizi commerciali. Sentiamo il servizio. A Pescara servono ancora più telecamere e ancora più forze dell'ordine. A dirlo il gruppo comunale dell'Udc che ha raccolto mille firme tra i cittadini di Porta Nuova per chiedere all'amministrazione di intervenire celermente. La sicurezza è una competenza strettamente delle forze dell'ordine, della Prefettura, ma il Comune è sempre il primo sportello dove i cittadini si rivolgono per poter rappresentare le proprie paure, le proprie stanze, i proprie bisogni. Io insieme all'amico e al consigliere Pignoli che è sempre in mezzo alla gente e quindi raccoglie prima di tutte queste paure, queste stanze, abbiamo voluto promuovere questa iniziativa raccogliendo più di mille firme per un'esigenza di sicurezza avvertita soprattutto in certe zone della città, firme che gireremo chiaramente al sindaco in quanto primo cittadino, ma soprattutto al prefetto e alle forze dell'ordine perché si adottino al più presto misure atte ad arginare questo fenomeno purtroppo di violenza che in questo periodo di chiusura e di lockdown è stato ancora più accentuato. Il Comune da parte sua sta facendo la sua con l'installazione di telecamera, ma è giusto pure che le forze dell'ordine siano molto attenti soprattutto in certe zone della città che purtroppo a volte vengono trascurate. Con la zona rossa si pensava all'incremento delle forze dell'ordine, che il problema sicurezza si attenuasse, non è stato così? Evidentemente i fatti dicono il contrario, la gente è allarmata, abbiamo raccolto mille firme che corrispondono a mille famiglie di Pescara, quindi una famiglia, abbiamo preteso che ogni persona, ogni famiglia apponesse la propria firma, di uno spicchio di Pescara, che è la zona di Porta Nuova, inizio via Terno, quindi la preoccupazione è seria, è tanta, e io e il collega Fiorilli ci siamo fatti portavoce delle problematiche di queste persone, soprattutto degli esercendi commerciali. L'avevamo detto e l'avevamo fatto. Restiamo nel capoluogo adriatico, perché nel frattempo questa mattina è stato presentato il nuovo sito del Comune di Pescara. Dopo il raddoppio degli accessi online, l'amministrazione così ha deciso per un ammodernamento. Vediamo. Gli accessi al sito del Comune di Pescara in un anno sono raddoppiati e ora l'amministrazione ne ha fatto uno nuovo. È online da oggi e tramite lo sportello polifunzionale si potrà accedere a oltre 700 istanze. Al momento il vecchio sito rimane comunque fruibile, fino a quando tutti i contenuti saranno spostati su quello nuovo. La transizione digitale a Pescara è già realtà, ha detto l'assessore Seccia. Un sito che praticamente si adegua a quelle che sono le normative Agid, che obbligano gli enti locali ed effettuare degli adeguamenti in relazione alla trasparenza e la facilità di accesso. Questo sito ovviamente rappresenta quello che è detta la norma in tal caso, anche perché nell'ultimo anno si è avuto praticamente un raddoppio degli accessi da 50 a 91 mila quasi, quindi quasi il doppio. E vogliamo mettere in condizione tutti i cittadini di Pescara di digitalizzare i propri servizi attraverso questo strumento, con la diffusione anche dello Speed, che è il sistema di identità digitale, che permette anche di effettuare quelle che sono le richieste certificate, ad esempio, dalla cosa più banale, a qualsiasi altro servizio che fornitore al Comune di Pescara. Quanto costa a riamorire il sito? Sono risorse interne che sono state prodotte da personale interno, quindi praticamente viene prodotto nei termini in cui ovviamente vengono pagati gli stipendi dei nostri dipendenti. Quindi un orgoglio doppio per la città di Pescara, perché dimostra che internamente ha delle risorse importanti che può essere messa in produzione per il beneficio del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Un contributo straordinario in favore degli istituti paritari deputati all'educazione dei più piccoli, che nel periodo del lockdown totale della primavera scorsa sono stati costretti a sospendere qualsiasi attività. E quanto prevede l'avviso pubblicato oggi da Regione Abruzzo? La Regione ha voluto così mettere a disposizione circa 1,2 milioni di euro per gli istituti paritari. Ci rivolgiamo in particolare, dice l'assessore all'istruzione quaresimale, a nidi, sezione primavera, micronidi, centri per bambini e famiglie e scuole dell'infanzia che potranno presentare la richiesta. La quota d'erogazione è fissata in un massimo di 150 euro per ogni bambino iscritto alla struttura alla data del 29 di febbraio del 2020. Abbiamo ritenuto importante tutelare gli istituti costretti a riconsegnare le rette mensili per la sospensione del servizio, conclude la nota della Regione. Da domani 1 maggio, nelle edicole delle quattro province abruzzesi, sarà distribuito il quotidiano La Città, che da Quotidiano del Terramano diventa Quotidiano d'Abruzzo. Andiamo a vedere insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. La Città Quotidiano della provincia di Terabo si regionalizza e diventa Quotidiano d'Abruzzo. Dal 1 maggio, nelle edicole dell'intera Regione, gli abruzzesi troveranno questo nuovo prodotto editoriale con il suo inconfondibile logo e con tante pagine dedicate alle quattro province, alle notizie nazionali, allo sport, alla cultura, un occhio particolare anche all'economia, alle aziende e al lavoro. Non è casuale la scelta della data del 1 maggio per questa rinnovata ripartenza. È una nuova sfida, è una nuova bella vittoria, quella che possiamo dire di portare avanti in un momento in cui la carta stampata, come è noto, ha un flusso non proprio positivo. Ecco, l'editore Gian Piero Ledda crede nella carta stampata, crede nell'informazione cartacea ed è per questo che abbiamo deciso di fare un passo in avanti, oltre lo sfacolo. E quindi il nostro Quotidiano, appunto, da domani, 1 maggio, verrà distribuito nell'intera Regione Abruzzo, peraltro con un numero speciale dedicato all'Abruzzo che lavora e chiaramente ci saranno anche le notizie di cronaca come sempre, ricordando che il nostro Quotidiano, composto da 40 pagine, si occupa di politica, di attualità, di cronaca nazionale, regionale e ovviamente del territorio, in questo caso della provincia di Terramo, di Pescara, L'Aquila e Chieti. Una cosa importante da sottolineare è che il nostro Quotidiano vuole essere un punto di riferimento dell'economia, del territorio e della crescita della Regione Abruzzo ed è per questo che abbiamo scelto di ampliarci all'intera Regione. Abbiamo deciso di portare il prezzo del giornale ad un euro, ma questo perché? Proprio perché sia un'occasione, davvero per tutti, di poter leggere il giornale. Con questo nuovo giornale regionale, l'idea dell'editore della Città Quotidiano d'Abruzzo, Gian Piero Ledda, è quella di offrire agli abruzzesi pagine che facciano riscoprire il piacere della lettura lenta e ragionata. Nella giornata del 1 maggio, il giornale sarà distribuito gratuitamente. Siamo arrivati allo sport, partiamo dalla Serie B. La Lega ha rimodulato date e orari di play-off e play-out. In particolare, i play-out si disputeranno sabato 15 maggio alle 16.30, gara di andata, e venerdì 21 maggio alle 20.30 per quella di ritorno. L'obiettivo del Pescara è esserci a questi appuntamenti, anche se la rincorsa si è fatta estremamente difficile. domani alle 14.00, i Biancazzurri giocheranno a Cosenza, uno scontro diretto nel quale la vittoria sarà l'unico risultato che conta. Allora, vediamo il servizio di Andrea Costantini. E' la partita del non ritorno per il Pescara. Domani alle 14.00 al San Vito Marulla contro il Cosenza, i Biancazzurri avranno l'obbligo della vittoria per restare in vita, sperare in una rimonta che avrebbe del miracoloso e dare un senso alla partita successiva, un altro scontro diretto con la Reggiana. Il Pescara è partito ieri pomeriggio, sosta intermedia con rifinitura odierna nel Salernitano e poi di nuovo in viaggio verso Cosenza. Dei giocatori positivi al Covid-3 si sono negativizzati, ma il solo Setter fa parte della comitiva e partirà dalla panchina. Nura da fare per gli altri e anche in chi è partito vanno fatti dei distinguo. Ci sono Tabanelli e Bocchetti che però non giocano da un pezzo e la loro disponibilità è limitatissima. Seppur convocato, De Sena non sarà della partita. Le parziali buone notizie sono i miglioramenti di Sorensenne e Maestro che recuperano, anche se il centrocampista accusa ancora qualche fastidio al setto nasale. Il tecnico Grastadogna parla di questi giorni di avvicinamento al match. Abbiamo lavorato soprattutto in questi due giorni, cioè dopo il Pella, soprattutto a livello di testa, a livello di ricaricare le pile a questa squadra. Insomma, sappiamo che abbiamo perso una grande occasione. Domani ne abbiamo un'altra, l'ennesima. Assolutamente la più importante, quindi ci giochiamo tutto. e quindi le motivazioni partono da loro. Dobbiamo essere bravi però ad entrare in campo con grandissima personalità. Sapendo che è uno scontro diretto, sapendo che affrontiamo una squadra organizzata, con la bava alla bocca, anche lei, dobbiamo uscire vincitori da questa finale. Ci sono poche parole da dire. Insomma, è una partita che veramente si presenta da sola. Se Grassadonia fa ancora una volta la conta, non mancano grattacapi anche per il tecnico dei Silani, Roberto Chiuzzi, la cui panchina ha vacillato e non poco, a seguito della serie aperta di tre sconfitte consecutive. La società alla fine ha ribadito la fiducia all'artefice della salvezza miracolosa dello scorso luglio, ma ora anche il Cosenza ha bisogno urgente dei tre punti. I problemi principali sono al centrocampo, autolo squalificato Sciaudone e gli infortunati Bittante, Gerbo e Petrucci. In mediana Corsi e l'ex Crecco saranno gli esterni. In mezzo va e con è. Così, Grassadonia sugli avversari. Mi aspetto un Cosenza che deve vincere la partita, mi aspetto un Cosenza che viene da giornate di difficoltà, mi aspetto un Cosenza che fino alla fine l'allenatore è rimasto in bilico, quindi mi aspetto un approccio del Cosenza da lupi, passatemi il termine. E noi dobbiamo essere peggio di loro, nel senso che dobbiamo fare una partita di grande aggressività. Dobbiamo liberarci da queste paure che abbiamo a livello inconscio e fare la partita che dobbiamo fare. Ripeto, e soprattutto sapere offendere su quello che abbiamo provato in parte ieri e in buona parte stamattina, perché come tutte le squadre, come d'altronde noi, abbiamo i punti di forza, ma abbiamo anche i punti deboli. Perché per noi è l'ultima chiamata, lo ripeto, lo ritorno a dire. Quindi è una partita che dobbiamo affrontare con il desiderio, la voglia di vincere la partita, perché non abbiamo alternativa. Nello scorso campionato il Pescara ha espugnato il San Vito Marulla 1-2 col gol partita nel finale di Galano. Prima ancora il Delfino era riuscito nella medesima impresa anche nel novembre del 98, 1-5 con De Cagno in panchina, e soprattutto nel giugno 94 con quello 0-2 che coronò la rimonta salvezza con Giorgio Rumignani in panchina e Andrea Carnevale nelle vesti di implacabile goleador. Nel novembre 2009 l'ultima sconfitta in C1 per 2-1, più in generale in terra silana. Il bilancio è di 8 vittorie per il Cosenza, 8 pareggi e 3 vittorie per il Pescara. Serie C nel pomeriggio penultima seduta settimanale per il Teramo che prepara la partita dell'ultima di campionato contro la Viterbese. Il tecnico Paci recupera Santoro, Ilari e Tentardini e potrebbe lanciare dal primo minuto Bellucci, viste le assenze certe di Trasciani e Diachite e le condizioni non ottimali di Vitturini e Lasic. Il Teramo punta al settimo posto, anche di questo ha parlato l'attaccante Daniel Birligea che andiamo ad ascoltare. Ci sono tante, parecchie combinazioni per l'ultima giornata di campionato che restituirebbero o un Teramo-Palermo o un Palermo-Teramo, il che per te inevitabilmente sarebbe una partita particolare. Sì, è una bella partita, è bello sempre giocare con le squadre e comunque far vedere che ti hanno cresciuto e magari in un certo senso ti hanno perso ma magari non per colpa loro e comunque è anche una cosa per me, non per il Palermo ma comunque per farmi vedere e aiutare la squadra, quindi sì, è una bella partita. Hai quasi un qualche rimpianto per te sul piano fisico o qualcosa? Uno fisso c'è, dai. La gamba che mi ha abbandonato per due mesetti però diciamo che abbiamo ripreso mano e speriamo che non succeda più. Ci volevano questi 60-70 minuti quanto 68 o quello del genere e ci volevano comunque, no? Arrabbiato no perché comunque è entrato il mio compagno che aveva più forze per dare quel coso che serviva negli ultimi minuti. Io sì, sto bene, si è visto anche le ultime due settimane che comunque sono rientrato bene, anche negli allenamenti sto bene. Sì, ci sono i play-off che comunque voglio dare tutto, prima però del play-off c'è l'ultima partita che comunque sono tre punti importantissimi. Noi crediamo fino al settimo posto e c'è comunque una buona percentuale che ci possiamo arrivare. Comunque il Francavilla non penso che regalano tre punti così facile. Comunque ci saranno dei ragazzi che combatteranno fino alla fine e comunque sono gli ultimi 90 minuti della stagione e penso che si vorranno far vedere. E quindi noi, o almeno io penso, spero che arriviamo, che succeda il miracolo, che comunque, non miracolo, ma comunque succeda qualcosa, che possiamo arrivare settimi, ottavi, che ci dava una mano in più. Lasciamo il calcio adesso per occuparci di ciclismo. Tanto Abruzzo nel Giro d'Italia che inizierà l'8 maggio, domenica 16, tappa di montagna tutta nella nostra regione da Casteldisangro a Campo Felice con tre gran premi della montagna e l'arrivo in salita caratterizzato da un tratto di sterrato. Di questo abbiamo parlato ieri sera nel corso della trasmissione velo condotta da Jacopo Forcella col patron Luciano Rabottini con il sindaco di Rocca di Cambio Gennaro Di Stefano. Vediamo. Questo è lo scenario. Abbiamo ancora tanta neve su quella zona di Campo Felice. Campo Felice insiste sul territorio di Rocca di Cambio e stiamo lavorando appunto per preparare la strada che poi porta su all'arrivo a 1.460 metri e a 1.560 metri e stiamo lavorando sulla risalita della strada cercando di compattare e di togliere neve. Ci sono circa ancora sulla parte alta due metri di neve pertanto abbiamo lavorato con i gatti delle neve, abbiamo pulito quasi tutta la strada adesso ci dedicheremo al fondo stradale per combattarlo bene. L'idea di Andrea Mammarella è nata l'anno scorso durante il mese di settembre. Ci siamo visti abbiamo parlato un po' poi a lui è venuta l'idea di arrivare lì su questo serrato in quota e è stato accettato un po' da tutti. All'epoca ne parliamo sia con la stazione di Scica un po' felice con i proprietari col comune e con gli amministratori ne ho parlato io e l'idea di Andrea poi alla fine l'abbiamo portata diciamo a termine. Abbiamo deciso di fare questo serrato anzi addirittura si voleva arrivare un po' più su proprio al valico della brecciara che poi non abbiamo abbiamo abbandonato l'idea perché non c'era molto spazio lì d'arrivo d'arrivo quello sulla brecciara invece qua sotto c'è più spazio mancano 400 metri per arrivare su però è bellissimo anche qui con Andrea e con Lallini l'anno scorso decidemmo di provare questa avventura e adesso siamo alla parte conclusiva e speriamo di riuscire e di fare bella figura. Nel 2012 arrivò il giro a Rocca di Cambio eravamo in subito dopo il terremoto e sfruttammo quell'occasione per rilanciare il paese che praticamente era chiuso era abbandonato dopo la pandemia lei deve considerare che la stazione di sci quest'inverno è stata chiusa pertanto una stazione di sci dove il sabbio e la domenica vengono 10.000 visitatori tenerla chiusa è stato un grosso danno e questa opportunità di fare la tappa di dare visibilità di far capire che ci stiamo muovendo per cercare di ritornare alla alla normalità potrebbe essere il giusto veicolo e adesso andiamo a fare il punto del weekend di calcio a 5 e palla a volo partiamo dal futsal si concluderà domani la stagione regolare in serie A l'acqua e sapone unigross ormai seconda sarà di scena le 18 a Catania stesso giorno stessa ora per la già retrocessa Colormax Pescara che al palarigopiano riceve l'eboli fermi tutti i tornei in attesa dei playoff in programma solo il recupero in A2 femminile tra Sassoleone e Orione Avezzano anteprima di un match che si ripeterà in chiave playout per decretare quale delle due resterà nella categoria la conquista della Coppa Italia Under 19 femminile del Florida resta l'unico trofeo abruzzese il Francavilla neopromosso in A esce di scena ai quarti i pastorini e compagni sfiorano l'impresa ma vengono battute 6 a 4 dal Best Sport Roma per il Tiki Taka tripletta di Cecilia Nobilio e un gol di Giorgia Versulli questo per quanto riguarda il Futsal adesso passiamo al volley riflettori puntati sull'unica abruzzese in campo Labba Pineto che domenica alle 18 al Pala Santa Maria affronterà in gara 2 dei quarti di finale di A3 il Motta di Livenza i trevigiani hanno vinto 3 a 1 il primo confronto per sperare nella bella il 5 di maggio il sestetto di Rosichini ha l'obbligo di vincere con qualsiasi punteggio in B1 femminile nell'ultimo recupero ininfluente la Teatina ha perso 3 a 0 a Sant'Elia termina qui questa edizione del TG6 io vi ringrazio per averci seguito se volete trovate on demand i nostri servizi su tv6.it sul nostro canale Youtube e sui social da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi questo a a a Grazie a tutti.